... Uomini a terra, due agenti di polizia feriti, altri che potrebbero ricorrere alle cure del pronto soccorso, quattro uomini arrestati con l'accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Questo l'esito della protesta di un gruppo di ex profughi del Ferrotel, che ha paralizzato Via Taverna per oltre mezz'ora sotto lo sguardo dei cittadini che dal marciapiede assistevano impietriti alla scena. Tutto è iniziato questa mattina, quando il gruppo di stranieri ha raggiunto gli spazi del comune di Via Taverna, dove gli amministratori hanno proposto loro corsi di formazione per piastrellisti. L'iniziativa non ha trovato il consenso degli stranieri che chiedevano corsi di altro tipo. Da lì è nata un'accesa discussione con l'assessore servizi sociali Stefano Cugini e la successiva occupazione del cortile del comune di Via Taverna. Gli uffici avrebbero dovuto chiudere alle 14.30. Il dialogo non è servito a convincere i profughi ad allontanarsi volontariamente e poco dopo le 16 è scattato lo sgombero. A quel punto un ragazzo ha dato in escandescenza e in Via Taverna si è scatenato un parapiglia che poi ha coinvolto quattro dei profughi rimasti sul posto e le forze dell'ordine. Uno degli stranieri ha morso un agente alla mano, un altro poliziotto è rimasto ferito. Attimi di altissima tensione fino a quando la polizia è riuscita a bloccare gli oppositori, tutti accompagnati in questura, dove per loro sono scattate le manette. L'ambulanza ha trasportato i feriti all'ospedale. La circolazione in Via Taverna è rimasta bloccata per oltre mezz'ora con i pullman e le auto che hanno formato una lunga coda fino a Piazzale Torino. Lentamente la situazione è tornata alla normalità e il traffico ha ricominciato a scorrere. Sono stati proposti dei corsi di formazione professionale che non li aggradavano, non andavano bene, però ragazzi, manna che piove dal cielo adesso obiettivamente. Facciamo fatica a proporli anche ai cittadini piacentini, per cui, come si è sempre detto, equità sociale come principio non negoziabile, per cui questi sono i termini, o si accettano o si è fuori. Hanno deciso di presidiare l'assessorato, siamo stati costretti a chiamare le forze dell'ordine e poi la cosa è degenerata, quindi è un momento, direi, triste, pur consapevole di aver fatto tutto quello che andava fatto, sicuramente non è stato un bel momento. Dura la posizione della provincia di Piacenza che aveva stanziato i fondi per i corsi professionali contestati dai profughi. L'assessore Gallini ha dichiarato che la politica lassista comporta pretese incredibili di soggetti che hanno beneficiato fin troppo dagli aiuti, per poi aggiungere che tutta la materia, data la situazione, andrà rivista. Non si può pensare di dare ancora risorse con questi risultati e aggiungendo che è necessaria una linea dura. Pesanti le reazioni a livello politico anche da parte di Lega Nord e Fratelli d'Italia. Grazie.